E' stata una fiaccolata sentita e silenziosa a quello che ieri a Marina di Ragusa ha percorso le strade principali della frazione marinara, per commemorare il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della scorta. Giunto ormai alla stessa edizione, l'evento Marina di Ragusa non dimentica 1992-2017. In cammino sui passi di Paolo Borsellino è stato molto partecipato con una fiaccolata partita da Piazza Duca degli Abruzzi e che ha percorso il lungomare Andrea Doria fino ad arrivare a Piazza Malta. A seguire si è tenuto l'incontro e intervista con Leonardo Ferrante, referente nazionale del settore anticorruzione civica e cittadinanza monitorante delle associazioni Libere e Abele. All'iniziativa hanno preso parte oltre al sindaco di Ragusa Federico Piccitto anche le associazioni Youpolis, Generazione Zero, Consulta Provinciale Studentesca Orizzonte e Pastorale Giovanile degli Adoci di Ragusa. Il messaggio anzitutto è uno, chi opera criminalità organizzata e chi opera malaffare non è una persona libera, è uno schiavo molto spesso volontario, quindi bisogna anzitutto partire da questa verità e al tempo stesso continuare a chiedere verità, ad esempio appunto come per la strage di Via D'Amelio perché a 25 anni ancora non si sa davvero che cosa è successo. Ai giovani quindi ci viene da dire siate liberi e quindi essere liberi significa evitare il comportamento corruttivo, evitare l'appartenenza criminale perché non paga, anche se apparentemente paga, in realtà vi fa diventare schiavi.